avete mai pensato di poter cucinare pasta fresca tutti i giorni in soli 10 minuti bene ora è possibile con pasta maker di philips vediamo le sue caratteristiche principali pasta fresca in 10 minuti programmi completamente automatici prepara fino a 600 grammi di pasta in una sola volta quattro dischi inclusi per tanti tipi di pasta utilizzabile con diversi tipi di farina e liquidi comodo ricettario incluso preparare pasta fatta in casa non è mai stato così facile non dovete fare altro che inserire la farina impostare il programma desiderato azionare la macchina e aggiungere l'acqua in modo completamente automatico si occupa di miscelare impastare ed estrudere il tutto nel tempo necessario per far bollire l'acqua con i quattro dischi di estrusione inclusi potrete dare sfogo alla vostra fantasia e preparare un'ampia varietà di pasta fresca come lasagne cannelloni fettuccine penne maccheroni spaghetti e molto altro ancora usando i più svariati tipi di farine e aggiungendo all'impasto ingredienti come uova erbe spinaci nero di seppia succo di carota potrete creare tantissimi tipi di pasta in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze nutrizionali senza mai rinunciare ad una cucina genuina e ovviamente si possono usare anche farine senza glutine pasta maker è facile da montare e velocissimo da pulire grazie al kit in dotazione basterà un semplice tocco i dischi invece possono essere riposti nel comodo vano porta accessori nella confezione è incluso un comodo libro di ricette con un elenco di ingredienti per 24 tipi di pasta e ricette per oltre 20 pietanze a base di pasta fresca pasta maker con philips riscopri il gusto della pasta fatta in casa